signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale due settimane fa nell'ultimo video dell'arte del masteraggio avevo promesso che in questo video avrei parlato di come preparare i mostri per gli incontri abbiamo detto che non conviene preparare gli incontri di una campagna prima che la campagna sia effettivamente iniziata invece è molto meglio prepararsi i mostri prima che la campagna sia iniziata per non perdere tempo quindi questa settimana non perdiamo tempo e andiamo a vedere come e perché è sempre meglio prepararsi il proprio bestiario di campagna bestiario in realtà un termine improprio perché più che una collezione di mostri si tratta di un elenco di png e possibili situazioni che prevedete possano essere inseriti nella campagna anche se non prevedete quando poi se voi siete di quei master che prediligono il fantasy o comunque vi piace inserire i mostri nelle vostre campagne potrebbe diventare un vero e proprio bestiario medievale però andiamo con ordine nell'ultimo video abbiamo detto che è molto difficile prevedere come master quali saranno gli incontri che i vostri giocatori dovranno affrontare nel lungo periodo ogni sessione i giocatori prendono dozzine di decisioni su come vogliono che i loro personaggi si comportino e come preferiscono che la quest prosegua di conseguenza voi potete farvi un'idea di cosa succederà ai giocatori nell'immediato potete anche avere un'idea di quello che i giocatori dovranno affrontare tra due o tre sessioni ma è praticamente impossibile avere un'idea esatta di quali saranno gli incontri che i vostri personaggi dovranno affrontare tra sei mesi o un anno di campagna quello invece che voi come master potete prevedere con relativa sicurezza è chi parteciperà a questi incontri dato che molto probabilmente non dipende dalle singole scelte fatte dal party ma dal tono generale della quest e dal luogo in cui si svolge quella parte dell'avventura diciamo che state organizzando una campagna in cui gli eroi dovranno combattere epici scontri per respingere l'invasione dell'orda degli orchi che si sta avvicinando al regno da nord attraversando una ragione famosa per le proprie foreste innevate potrebbe benissimo essere l'inizio per una quest anche abbastanza standard di Dungeons & Dragons come i giocatori decideranno di approcciarsi all'orda degli orchi e cosa faranno effettivamente per ostacolarla sono cose che dipendono dai giocatori quindi voi non potete prevederle e non è neanche corretto che voi proveate a influenzare i giocatori dopo di tutto sono loro i protagonisti della storia loro decideranno come gli piace di più affrontare il problema è sicuro però che a un certo punto della quest prima o poi gli eroi si troveranno a dover incontrare e affrontare questi orchi durante la fase di preparazione della quest potete già cominciare a scrivervi stiamo parlando di D&D quindi diciamo i profili, la scheda tecnica di magari due o tre tipi di orchi diversi in base a come avete deciso che sarà la cultura degli orchi nella vostra ambientazione nella vostra storia gli orchi sono una razza di feroci guerrieri guidati dal clero del dio della guerra bene, cominciatevi a scrivere due o tre profili di orchi specializzati nel combattimento e magari anche il profilo di un paio di orchi chierici o orchi incantatori divini del dio della guerra nella vostra storia invece gli orchi sono infidi e usano tattiche di sotterfugio ok, preparatevi il profilo dell'orco ranger, dell'orco ladro quando poi durante la scrittura delle sessioni andrete a creare gli incontri avrete già magari una mezza dozzina di profili di orchi già pronti che potete semplicemente prendere e inserire per creare il vostro incontro magari dovendo aggiungere solo un png specifico o magari semplicemente combinandoli tra loro in modi diversi per creare due o tre possibili incontri in base alla situazione allo stesso modo in quella lista potrebbero essere presenti anche mostri tipici della regione innevata del nord o mostri che normalmente ci sono nelle foreste ricordate anche che gli incontri non sono fatti solo da mostri o da png ma negli incontri rientrano anche una serie di condizioni ambientali o condizioni sociali tra le più disparate nelle foreste innevate del nord è possibile che a volte gli alberi crollino sotto il peso della neve e che se i pg ci passano sotto rischino di venire schiacciati potete cominciare ad aggiungere questo e magari scrivere una regola dedicata all'elenco degli incontri che avete preparato per la campagna sicuramente prima o poi gli avventurieri dovranno andare nella foresta allo stesso modo non tutti gli incontri sono potenzialmente dannosi per i giocatori abbiamo detto che stiamo pensando alla quest per essere utilizzata all'interno di una delle ambientazioni di D&D bene uno dei troppo ricorrenti di quel gioco è che gli avventurieri hanno spesso bisogno di un mercante a cui vendere il tesoro in eccesso e da cui comprare pozioni e altre risorse dei peribili potete cominciare a preparare un mercante dagli magari anche una personalità interessante scrivergli un minimo in retroscena e poi piazzare la sua bottega in uno qualsiasi dei villaggi in base a qual è la vostra esigenza in un determinato momento della campagna voi non potete sapere quali dei vari villaggi nella regione del nord i giocatori sceglieranno come propria base però siete sicuri che in quel villaggio avrete bisogno di un mercante per far vendere loro il tesoro se poi voi siete tra quei master che usano molto spesso lo stesso sistema di gioco se il vostro gruppo è particolarmente affezionato a un sistema ogni volta che vi preparate un mostro per un incontro conservatelo in questo modo alla fine col passare del tempo vi ritroverete ad avere una raccolta un vero e proprio mostrario di incontri e di mostri per quei possibili incontri già scritti che potete riciclarvi in avventure successive io personalmente credo di aver conservato praticamente tutti i mostri che ho utilizzato nelle quest dell'ultima decina d'anni e utilizzando spesso i stessi sistemi adesso mi trovo ad avere un mostrario di Dark Eresy abbastanza ben fornito e per quanto riguarda Dungeons & Dragons 3.5 Pathfinder i fascicoli stanno cominciando a assumere la dimensione di veri e propri libretti di avventure alternativi sicuramente questo lavoro di archivazione richiede un minimo di impegno in più però grazie alla costanza nell'archiviazione io per esempio adesso mi ritrovo ad avere praticamente una dozzina di orchi possibili se dovessi fare la quest che abbiamo citato prima e comunque molti mostri già scritti che mi basta semplicemente prendere e inserire senza non interessare neanche a riscriverli sì, ovviamente potete dire ok ma puoi benissimo prendere i mostri al mostrario lì sono già scritti ogni gioco ha i suoi mostri già preparati infatti questi mostri sono pensati per essere generici quindi non necessariamente si adattano né alla vostra quest né in generale al vostro stile come master personalmente preferisco sempre riadattare i mostri in base alle mie esigenze in modo da poterli giocare come io ritengo sia meglio essere giocati richiede quel minimo di sforzo in più ma aumenta notevolmente la qualità della narrazione che poi andate a mettere in gioco diciamo che per questo video è tutto questo vorrà essere proprio un consiglio pratico spicciolo da aggiungere alla vostra cassetta degli attrezzi del game master come sempre voglio sapere da voi come fate a organizzare i vostri incontri se vi scrivete dei mostrari, se non li scrivete quali metodi utilizzate per accelerare la scrittura degli incontri come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se avete domande, dubbi o perplessità scriveteli nell'area dei commenti qui sotto schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi le prossime uscite io sono il Master CAE noi ci vediamo al prossimo video